Buonasera, benvenuti all'incontro valore per la nostra giornata di interno, per il terminato di solo la prima finizione nazionale, per la nostra giornata, per il bisogno di raccogliere tutte le energie e ripartire dopo un periodo di appannamento che ha portato i ragazzi di posto blu a perdere i primi ricordi nell'ultima due partite, l'ultima di interno, ma questa sera, di fronte, c'è una figura scuola, c'è un potere di doppianza, in questo momento è una fase di recuperazione, è una combattina dell'altra parte, è una combattina dell'altra parte, è una combattina, è una combattina, è una combattina, è una combattina, è una sera, dopo 33 secondi, 23 secondi, ok? Si tocca il giro, oi tanto, sono iniziati dalnicamento, ma questa è una combattina, è una combattina Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Marcia. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e 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 tutti. e a tutti. a tutti. e 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 tutti. e... e tutti. e tutti. e... e tutti. e tutti. e... e tutti. e... e tutti. e tutti. e tutti. e... 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 e...